In centro, in centro, in centro, in centro, in centro, in centro sono cazzi, in centro, bravo, 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 fai così, fai lì, fai lì, dobbiamo andare indietro, dovete venire indietro, vai, penso di là, bravo, bravo, ecco, 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 comincia ad essere giusto, comincia ad essere giusto, prendiamo dell'acqua, comincia ad essere giusto, adesso, qui devi fare quella cosa che ce l'avamo presi, prendiamo un pezzo di plastica quella lì, ecco, dai, un po' come fa bene, chi si siede? Io, dai, Sandra, fai questo? Grazie a tutti.